C'è un quale i film sód C'è un quale i film sód Possiamo iniziare quindi? No aspetta, non lo dico io Ah, cos'è? 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 Che è molto più voce Filling Zold insomma C'è Filling Zold? Con l'intro Due giri d'intro No no attacchiamo... Aspetta su da sé La gara di... All I want... Is someone reading Closer! Non lo dico 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 Sì No Un'altra Non lo dico E' un'altra C'è Ciao Noi siamo Fox棄 Siamo molto onorati di poter aprire il concetto di XSXM James Blake Grazie.